Perché non vi interessa parlare di queste cose? Dobbiamo parlare di cose molto più belle. Non di queste cose. Cosa non è più belle? Allora, abbiamo capito. No, ascolta. No, no, no. No, no, andiamo, dai. Dai, andiamo. Vieni via, vieni via. Ehm, andiamo. No, ma tu resta il soccato, il bombole. Ma non vogliamo parlare delle due eme. Non lo vogliamo parlare. Non lo vogliamo parlare. Non lo vogliamo parlare. Non lo vogliamo parlare. Esatto, infatti non chiudo la diretta. Non chiudo la diretta. Lo facciamo. Questo non è una persona c'è. Ma non lo stiamo. Perché è un infame questo. Ma andiamo, andiamo. No, ascolta, Marco. Ascolta. Ma non lo stiamo. Mario. Ma non lo stiamo. Ciao Angela, da Mondello. Un abbraccio forte, 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 forte a te. Grazie. Grazie.